Buonasera a tutti, ben trovate, buonasera, ciao ragazze, benvenute nel laboratorio creativo di Chiara questa sera vi voglio far vedere un progetto veramente molto bello, molto carino con i materiali di Creativa By Marta andremo a realizzare questa bellissima ghirlanda americana fuori porta ciao Christian, ben arrivato, ciao ragazzi, ciao, benvenuti a tutti, a quelli nuovi e a quelli che mi seguono già questa bella ghirlanda americana è stata realizzata con un nastro veramente molto particolare che adesso vi farò vedere questo nastro, alto circa 7 cm, viene chiamato zucchero filato per la sua consistenza bella, leggera e vaporosa e questo effetto, che adesso un po' qua non si vedrà bene leggermente cangiante, quindi se voi lo mettete sotto le luci ha un effetto un po' iridescente molto molto bello questo ovviamente nastro così alto serve per rivestire le ghirlande americane queste che hanno le strutture a cerchi concentrici io questa sera utilizzerò quella da 30 cm di diametro Christian l'ho già fatto quello, settimana scorsa ho fatto le streghette fuori porta da mettere fuori dalla casa mentre qua andiamo già, siamo già a fine praticamente ottobre quindi cominciamo a parlare di Natale non proprio fare i classici colori rosso, verde, molto canonici ma faremo una lavorazione leggermente un po' più shabby e un po' più soft in modo da arrivare con tranquillità comunque al Natale classico canonico in rosso e verde bene, allora la parte superiore è stata realizzata con la tecnica ad asole tipica delle ghirlande americane la parte sotto vedete che non ho completato verrà lavorata invece in un'altra maniera perché ci servirà piatta da poter da poter insomma applicare poi tutte le nostre decorazioni quindi utilizzeremo ghirlanda americana nastro zucchero filato ovviamente non potrà mancare la nostra teletta termobiadesiva let and bond la rossa, eccola qua ragazzi questa perché io andrò a realizzare dei fiori quindi andrò a fare della stella di Natale e quindi ho doppiato diversi tessuti tra cui tessuto nuovissimo in questo colore meraviglioso in rosso bordeaux quindi non è un colore scuro ma un bel colore rosso cupo rosso insieme sangue leggerissimo è un tessuto alto credo mezzo metro questo per un metro di lunghezza e io l'ho doppiato con diversi materiali quindi l'ho doppiato con la licra polvere di stelle color nude mi fa piacere Federico bene mi fa molto piacere che stai meglio ottimo così color nude quindi l'effetto che vedete sarà bicolore così questo è il mio ritaglino ovviamente c'è sempre la teletta in mezzo non vi sto a spiegare come funziona perché ormai lo dovreste sapere benissimo poi ho doppiato garza con garza in modo da renderla un po' più sostenuta essendo così molto leggera e poi utilizzeremo del velluto questo qua cinegliato color rosa antico per fare fiori e foglie e poi insomma ovviamente non potrà mancare qualche bel nastro questo della nuova collezione guardate che bello ha losanghe panna rossa e bordeaux molto molto bello e non potrà mancare il nostro alleato il nastrarte in questo caso la misura quella grande per fare i nostri bei fiocchi ho utilizzato un'altra cosa anche che non può mancare perché faremo delle stelle di Natale quindi ho utilizzato il catamodello stencil il numero 34 questo qua il Natale fiorito e ho realizzato questa stella di Natale qua questa qui mi sono già un po' portata avanti perché bisogna tagliare un bel po' di fiorellini quindi mi sono tagliata i miei petali bicolor cioè Emanuele non ti preoccupare ero leggermente in ritardo anch'io effettivamente quindi ho tagliato tre e tre sei foglie della misura grande quindi vi faccio vedere la sagoma del catamodello stencil così intanto vi rispolvero la memoria sagoma 1 catamodello stencil la misura più grande quindi l'effetto è questo qui ovviamente non li daremo così stesi a frittella ma li daremo un giro un po' diverso ho tagliato poi altro giro di petali sono sette petali medi quindi della sagoma 2 e ho tagliato quattro petali della sagoma 1 quindi la primissima la misura più piccola in modo da fare un po' una escalation di misure poi servirà anche aiuto che cade il cartamodello ma questa volta proprio cartaceo cartamodello cartaccio della rosa perché qui faremo qualche lavorazione anche ovviamente a mano bene una volta elencato tutti i prodotti se volete potete utilizzare anche un po' di pistilli rossi per fare il centrale oppure fate una pallina imbottita quello non fa differenza andiamo a lavorare prima tutti i nostri petalini quindi andiamo a fare tutti i nostri i nostri macchieggi i nostri lavori poi per ultimo andremo a confezionare tutta la nostra struttura bene buonasera ragazze ben benissimo ben trovati allora vediamo chi è bravo chi si ricorda come funziona la teletta termobiadesiva allora intanto c'è una cosa da stabilire prima di partire a bomba con tutto devo decidere da che parte girare il mio petalo parte scura o parte chiara perché andremo a fare una lavorazione a torciglione come questa vedete su tutti i petali in modo da dare un po' di movimento quindi a seconda di come lo attorciglio verrà attorcigliato diciamo nel verso dello scuro o nel verso del chiaro quindi vado a decidere da che parte voglio i miei fiori considerando che la base sotto quindi della struttura è di questo nastro quindi sarà chiara quindi converrà che il primo giro di petali sia scuro allora intanto andiamo a prendere il nostro pezzo di nastro e lo andiamo ad attaccare sulla nostra struttura quindi giro così intanto capiamo da che parte cominciare allora metto un pochino di colla appoggio il nastro e diciamo un lembo lo faccio aderire alla struttura di metallo come fare una sorta di orlo in modo che così il primo pezzo mi si blocchi e riesco a lavorare meglio ecco qui quindi vado e non faccio altro che passare dall'interno all'esterno poi ovviamente la lavorazione dipende se lavorate meglio con la destra con la sinistra quella non c'entra vado a foderare la mia struttura cercando di sormontarla un pochino in modo che rimanga bella coperta verrà comunque coperta dalle decorazioni quindi insomma non c'è pericolo che si veda qualcosa il nastro è molto morbido quindi si maneggia benissimo e andiamo a bloccare sul retro con la colla ecco qua con la nostra colla togliamo i filamenti ecco qua che non si staccano dalle mie dita bene ok e abbiamo questa guirlanda fatta così sì la teletta termobiadesiva è quella da stirare perfetto sì va stirata adesivata fra due tessuti e adesso vi faccio vedere come quindi primo giro di petalo grande quindi prendo i miei petali grandi saranno girati dalla parte scura in modo che quando io vado ad appoggiare il mio petalo o il contrasto chiaro e scuro quindi prendo o il rovescio della carta che vi rimane termobiadesiva o della carta forno non importa una delle due va bene e il mio amico ferro da stiro senza vapore ovviamente e vado ad ammorbidire il mio petalo quindi vado lo stiro bene bene lui si riscalda e vado a fare una torsione al mio petalo proprio lo stropiccio lo apro leggermente quindi lo ulteriormente lo modello ancora quando è tiepido una volta stabilita la mia forma lo appoggio e lo lascio riposare quindi vado prendo gli altri petali che mi sono persa eccoli qua fate la lavorazione sempre ad uno ad uno insistete nelle punte ecco qui la parte più divertente di dove uno stira prendo a torciglio lo stropiccio no magari un po' l'apertura e lascio riposare faccio così per tutti i miei petalini mi preparo il lavoro in modo che così per ultimo mi rimane solamente da incollare il tutto ovviamente questo è stato fatto dalla parte bordeaux chi è in possesso dei bulini può farlo anche con volendo i bulini schiacciando e dando comunque sempre la forma il secondo giro di petali invece la parte contraria in modo da avere proprio la gradazione di colori più lo stropicciate e più ovviamente viene bene se doveste accorgervi che non vi è venuto proprio fantastico basta ristirarlo e ricominciare da capo ecco qua facciamo tutta la parte stirata in modo che così poi abbiamo il piano di lavoro libero e poi andiamo a creare le altre decorazioni ecco qua potete divertirvi e utilizzare veramente tantissimi tantissimi tipi di tessuto potete doppiare il velluto potete doppiare il cotone veramente potete usarne di diversi ecco qua mi raccomando fate attenzione perché comunque anche il il petalo raggiunge temperature belle elevate ecco qui e abbiamo fatto i nostri primi giri di petali grandi prendo i medi che sono tutti bordeaux quindi uno già l'ho realizzato allora sto utilizzando del tessuto garza leggerissimo vedete qua ho fatto la mia bella bandierina tessuto di garza leggerissimo con una licra che viene chiamata polvere di stelle perché è tutta brillosa tutta brillantosa unita con la teletta termobiadesiva la rossa questa qua let and bond è la rossa che è quella più pesante in modo da fare proprio una specie di sandwich poi utilizzerò anche del velluto morbido però qui senza teletta quindi vado vado un po' più veloce qua tanto avete visto la tecnica com'è vado vado un po' più spedita vado questo è anche un ottimo antistress quando avete una giornata un po' pesante che avete bisogno un po' di scaricare i nervi vi stirate un po' di petalini ve li storcinate così evitate di storcinare il collo a qualcuno che non è mai bello però delle volte si sa può succedere durante il giorno che voleste strozzare qualcuno ma non potete allora vi sfogate con i nostri petali che loro sono contenti di essere stropicciati ecco qui ultimo giro di stropicciamento apriamo bene potete darle proprio alla vi piace guardate com'è bello incurvato questo ok ultimo giro ovviamente questo lo dovremmo girare dalla parte chiara li ho recuperati tutti si ok e questo qua la torcigliamo così dalla parte brillosa diamogli una forma un po' più cicciottina ecco qua così dopo mettiamo via ferro da stiro che fa un caldo incredibile questo magari gli date meno torsione se volete o più mirata visto che sono i petali centrali ecco qui ultimi due all'appello ecco fatto bene e poi proseguiamo con gli altri fiorellini perché ovviamente faremo una bella composizione all'inizio ecco qua ed ecco pronti da essere raffreddati direi che li abbiamo fatti tutti non è vero ce ne manca uno fuggitivo fuggitivo meno male che ho controllato se no poi il giro non ci viene ed ecco qua questa volta è veramente l'ultimo eccolo lì ok spegniamo qua me ne ha cascato uno poi ovviamente il numero dei petali può cambiare perché se come succede a me ve ne casca uno e non ve ne accorgete e voilà ok bene e qua mettiamo via vado allora vado a prendere una strisciolina di garza leggerissima di garza leggera l'ho già seghettata ciao Luana benvenuta allora vediamo se riusciamo a recuperare l'accendino qua in mezzo eccolo lì perché anche questa bella garzettina vedete si può sbrucciacchiare in modo da dare più un effetto vintage al nostro nastro ecco qui quindi ho tagliato una strisciolina più o meno da 8 cm lunga 28 cm come l'altezza poi del tessuto perché direi che è 28 cm ma non ne sono sicura ecco qui fatto la nostra bella sghirlandina ciao Carmen prendiamo ago ago e filo che è già cascato per terra ago e filo eccolo qua me l'avevo anche già preparata ero anche stata quasi bravina filo robusto robusto nodo in fondo e facciamo una bella filzetta anche qua bella non state troppo vicino al bordo perché è un tessuto che sfrangia un po' quindi state a circa un centimetro dal bordo ecco qua che ti sei intrigato ti sei intrigato là ok ah ti sei intrigato perché ti ho intrigato quando succede così ma che bello allora uno due quante volte ti avrò girato bambino oh bello queste cose in diretta meravigliose ecco qui ci fa anche molto molto presto ecco qua che si tira la nostra cordicella e il nostro fiorellino è bello che è pronto ciao Mita mamma mia questa sera quante fanciulle benissimo tutte le mie colleghe allora filo simpatico allora tiro blocco il filo e se avete la colla caldo già pronta a portata di mano andiamo a chiudere il nostro fiore praticamente già chiuso da solo andiamo solo a dargli una sistematina quindi io lo vado a chiudere così quindi lo chiuderò su se stesso in questa maniera qua quindi parto dal nodo queste meravigliose notifiche riusciremo a staccarle magari ecco forse sì così ci disturbano un po' meno perché questo dong in diretta è veramente molto fastidioso ma tutte le volte ovviamente mi dimentico di toglierlo e la mia insegnante ovviamente mi direbbe dei nomi incredibili e chiudiamo i nostri flowers allora nel frattempo mi tolgo il chilo di colla caldo che mi si è infilato dolorosamente dietro l'unghia ok e quindi qua abbiamo preparato già il mucchietto dei nostri fiorellini il fiorellino bordeaux prendo un pezzettino di velluto disegno a rovescio prendo che sono davanti al naso la penna evanescente prendiamo in misura ovviamente del nostro rosa appoggio il cartamodello e vado a disegnare vado a disegnare il mio tracciato un po' così anche velocemente e voilà e vado con la forbicina a ritagliare il mio fiore io parto di solito dalla base che è piatta praticamente estesa e poi vado su nel fiore e vado a disegnare il mio petalo quindi seguo il tracciato se volete lo potete anche questo bruciare con l'accendino e dare un effetto un po' più vintage adesso vi faccio vedere come così intanto lo blocchiamo uno sfila vado a fare le incisioni sotto e quindi vado ad applicare un taglietto sotto dove c'è proprio il segno del cartamodello ecco qui e questo è l'ultimo e voilà anche qua sopra nella punta potete annerire il tessuto in modo che così diventa scuro proprio nero e fa un effetto un po' vintage che nel velluto è molto molto bello allora un momento di concentrazione prima di darmi fuoco al ciuffo e voilà il gioco è fatto vedete eccolo qui prendo ago e filo io lo uso rosso ma voi cercate di usarlo un po' insomma in tonalità sempre nodo alla fine vado a fare il punto filza nella base piatta e vado ovviamente ad acchiappare quindi salto il buco che è quello che mi darà l'incurvatura e vado a fare tutta la filzetta fino alla fine eccola qua i tagli mi danno proprio la possibilità di fare l'arricciatura nei petali in modo che creiamo proprio più un effetto naturale per quello abbiamo applicato i taglietti sotto anche qui cercate di stare più o meno a mezzo centimetro dal bordo ecco qua e abbiamo fatto praticamente la corolla esterna della nostra rosa eccola ed ecco praticamente abbiamo come un gonnellino allora questa la arriccio un pochino meno la lascio un po' più morbida blocco lo stesso il filo ecco qua taglio l'eccesso più o meno un po' di parkinson prendo un pezzettino proprio uno scartino di velluto o anche di un altro di un altro tessuto potete farlo anche contrasto ecco qua blocco l'inizio la rotolo su se stesso abbastanza stretto allora io faccio meglio far così eccolo qui facciamo una sorta di cilindrino metto la colla nel mio cilindrino e voilà e ho fatto il pistillo ecco qui quindi prendo la mia rosa dove ho chiuso il pistillo metto un pochino di colla attacco il primo pezzo e giro giro in tondo e blocco possibilmente in concomitanza del nodo in modo che così rimanga bello bloccato diamo un puntino di colla anche qua sotto che così eccolo lì e abbiamo realizzato il nostro fiore e quindi siamo diciamo finiti a quota due ne abbiamo uno a mezza via andiamo a completare ovviamente la nostra stella di Natale quindi prendo i pistilli e questi sono anche nuovi 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 pistilli pistilli ne prendo una manciata ci mettono 6 kg di filo di metallo che io non vedo perché ci mettono questi bei sigillini qua ecco liberiamoli non c'è dubbio sì allora andiamo a prendere le maniere forti ecco o vedete che così si aprono ne prendo una manciata tipo prendiamone diciamo 6 2 4 6 6 che così messi doppi diventano 12 hanno il filo di metallo sotto quindi potete attorcigliarlo eccolo qua e andiamo a creare il nostro fiore quindi parto dai petalini piccoli quindi parto e vado ad incollare il primo al centro quindi metto un po' di colla qui appoggio il mio pistillo e il primo lo faccio aderire bene buonasera ragazze ben arrivate questa sera realizziamo una ghirlanda americana fuori porta vado a mettere il secondo petalo quindi metto un pochino di colla nel secondo petalo e vado a chiudere insieme i due in questa maniera premo bene metto un pochino di colla e vado chiudere eccolo qua lì dentro questo mi è venuto bello come diciamo noi intorcinato e dovete costruire praticamente a raggiera i vostri petali ovviamente non vi veranno mai identici se lo doveste fare due volte perché il bello del lavoro manuale è proprio questo eccolo qui e questo è venuto al contrario ma lo stesso e questo è il nostro primo giro vediamo che non si vede nulla primo giro di corolla proseguo così a raggiera per gli altri quindi vado a prendere questi qua tinta unita e in maniera sfalsata vado a mettere tutti i miei petalini quindi attacco questo ecco qua questo filo non c'entra nel frattempo che si sono raffreddati sono diventati rigidi come se fossero di cartone quindi rimarranno sempre così meravigliosamente stesi dovesse venire anche un uragano questo lo mettiamo qui questo lo mettiamo qui mi raccomando premete sempre bene sotto in modo che aderiscano in modo che non si smonti la composizione ecco qua questo lo mettiamo in questo lato e guardate che il nostro fiore sta prendendo piano piano forma eccolo lì ultimo petalo che va qui potete poi alla fine mettere anche la colla direttamente sopra il giro ed eccolo qua bene ultimo giro di giostra cominciamo e vado a mettere le foglie più grandi con il bordino così chiaro vedete fa un effetto molto delicato è veramente molto chic secondo me allora mettiamo così qua mettiamo un pochino di colla perché sta un po' troppo basso eccolo un po' di colla qui oh è stupenda veramente molto molto bella molto elegante questa è anche una diciamo un fuoriporta che può rimanere volendo anche tutto l'anno perché comunque non sono colori prettamente natalizi ma sono veramente dei colori molto delicati e secondo me è molto molto chic quindi anche lasciarli fessi tutto l'anno allora completiamo allora il nostro giro a seconda di come ovviamente l'abbiamo arrotolato monteremo o il sopra o il sotto in modo da dare più che sia più aderente possibile e che comunque abbia una forma anche comoda per essere attaccata ecco, così ultimo lì sotto e voilà quindi questo ovviamente perché mi è venuto steso da sua parte la andiamo a mettere qua allora vediamo se mi si smonta il tutto ecco il nostro fiore vediamo se si vede meglio in un'altra luce così, eccolo qui guardate la nostra stella di Natale che meraviglia che è diventato eccola qua bene, allora il nostro fiore principale è stato creato qua, mettiamoci un altro po' di colla in modo da tenerlo su prendo la mia ghirlanda e cominciamo a mettere giù un po' le idee quindi la mia idea era di fare il fiore centrale così quindi, per che ve lo giro così abbiamo il fiore centrale così abbiamo il fiore laterale abbiamo il fiore rosa da questo lato volevo far scendere il nastro così ecco qua e voilà e direi che da questa parte ci vorrebbe un altro fiorellino cosa dite? direi che secondo me adesso non so se la mia composizione reggerà ma direi che secondo me ci siamo io direi ragazze che cominciamo a sistemare un po' di pezzettini e poi vediamo mano a mano se c'è da aggiungere qualcos'altro allora partiamo subito con il nastro allora intanto il nastro ne andiamo a sistemare le code il bello di questo nastro è che ha le bande animate quindi potete modellarlo come volete io adesso andrò a che nel trasporto ovviamente le code si sono ammusciate eccolo qua potete mallearlo come volete guardate com'è bello in forma c'è in questa versione rossa e nella versione grigia rossa e grigia che è molto molto bella anche quella allora andiamo ad incollare per primo il nastro facendo una bella pressione con il ditigno ecco qua ovviamente io il nastro per farlo così bello il cicciottino ho utilizzato il nastro arte nella misura da 13 bello cicciottino eccolo qua vado e vado a piazzare il mio fiore allora ovviamente come in tutte le lavorazioni voi potete essere precise finché volete ma il fiore vi verrà con una certa simmetria chiamiamola così quindi la mia simmetria è così perché è la parte piatta più piatta quindi mettiamo una svagonata di colla lì sopra appoggiamo il nostro fiore teniamo premuto una volta attaccato la decorazione principale andiamo a vedere dove mettere i riempitivi per i riempitivi io intendo ovviamente i fiori poi possiamo anche aggiungere una bella fogliolina possiamo aggiungere anche del verde sì però la mia idea era di fare un total white sul bordeaux non volevo mettere troppo colore stranamente non volevo mettere del colore che non è da me prendiamo allora intanto il nostro fiorellino direi che uno andrebbe qui uno andrebbe là ma in realtà a te ti metto lì a te ti metto qua e là ci vado a creare una bella foglia allora andiamo a mettere la colla sul nostro primo fiore e lo andiamo a piaccicare lì mettiamo la colla su questo che però io vado a sistemarmelo un po' perché così spampanoso non mi piace lo vado a chiudere un pochino eccolo sì e quasi quasi chiudo anche lì nel frattempo prendo una ricarica ecco vado a mettere la colla sotto e vado ad attaccare il mio fiore lì alla base mentre intanto che qua si solidifica tutto ve la giro e ve la mostro eccola qua e voilà io vado a creare la foglia allora intanto tu che sta un po' moscio ti tiro su ecco e voilà qui non si è attaccato bene e intanto eccoli vediamo se riesco a scottarmi ahia sì ce l'ho fatta ok mentre la madame qua si solidifica ok me la poggio non so dove perché qua ormai non c'è più spazio da nessuna parte prendo un pezzettino di velluto taglio circa 4 cm non importa la lunghezza questo qua sarà circa 20 cm più o meno questa volta prendiamo però il filo rosa anche se non è proprio rosa antico però insomma si vede meno che rosso tagliata insomma una bella lunghezza ok e vediamo di voi chi si ricorda questa fogliolina qua allora mamma mia ce l'abbiamo fatta sì sì e vai nodo alla fine sempre parto dal basso vado a fare un punto filza in diagonale partendo dal basso verso verso l'alto dalla parte opposta torno giù adesso tenetelo steso torno giù e faccio altrettanto quindi vado in discesa ritorno su ritorno giù e lo faccio per tutta la lunghezza del mio tessuto potete farlo con il velluto potete farlo con i nastri potete farlo con il pannolenci potete farlo con qualsiasi tipo di tessuto una volta fatto questo bel giochino qui andiamo e andiamo a tirare la nostra fogliolina vi viene una specie di serpentina così allora qua adesso andiamo a sagomarla un po' ok io la tiro abbastanza abbastanza ma non troppo e vado a bloccarla così quindi blocco il filo ma cerco di tirare questa punta che mi è venuta la vado a bloccare qua giù in modo che mi rimanga dritta ecco qui perché così perché adesso ve lo faccio vedere ecco fermate sempre il filo tagliamo riprendo la mia ghirlanda qui dove ho la mia puntina vado e la vado a inserire qua dietro in modo che la puntina ecco che non vuole collaborare la puntina mi salta fuori da mio fiore quindi vado metto la colla sulla base in questo caso e non sull'accessorio e vado e vado e premo ecco qua quindi questo sarà poi l'effetto finale andiamo a vedere se ci sono altri bocchetti sistemiamo anche le codine che si sono stropicciate allora questo allora questo lo attaccherei lì perché non mi piace tanto ok e io andrei a fare se un altro fiore bordò qua in mezzo allora appoggio sempre il mio progettino vado a prendere il mio tessuto in organza vediamo vediamo un pezzo un po' meno sgangherato questo questo facciamolo si da più piccolino quindi anche qua si va sempre un po' occhio spanne non ci sono tante misure alla mano taglio una strisciolina possibilmente dritta magari chiara ecco qua una strisciolina non importa che sia grande perché tanto dobbiamo solo proprio tappare un bocchetto vado a fare la mia incisione a bandierina per tutto il senso della lunghezza se volete sempre con la fiamma libera quindi con l'accendino in questo caso bruciate gli estremi così non vi sfila e vi fa un po' l'effetto naturale una passata molto leggera questo lo potete fare con tutti i tipi di tessuto che abbiano una base sintetica perché la parte di poliestere ovviamente a contatto col calore si scioglie diventa sensibile e quindi si modella con il cotone purtroppo si otterrebbe solamente l'effetto annerito non è bruttissimo ma insomma non mi fa neanche impassire ok para 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 vedete è anche velocissimo questo lavoro questi fiori sono fantastici e voilà tiro e mi fa la coccardina allora diciamo che mi è venuta un po' troppo picciurlina per i miei gusti quindi cosa faccio la blocco la blocco così traccate la blocco prendo un altro pezzettino di tessuto più o meno uguale stessa cosa quindi sempre incisioni in verticale e voilà questo lo lascio così così creiamo un po' di movimento altrettanto ecco qui questa la lascio un pochino più morbidina fermo sempre il mio filo ecco qua prendo il mio primo fiorellino piccino picciò e lo chiudo su se stesso così e lo faccio diventare la mia corolla quella centrale metto un pochino di colla cerco sempre di centrare il nodo in modo che così almeno sappiamo che i nodi non si sciolgono ecco qui fate attenzione perché la garza è veramente molto trasparente e vi si cuociono le dita come a me in questo momento ok quindi abbiamo creato abbiamo ingigantito il fiore che c'era scappato troppo piccolo e lo vado ad incollare nel buco rimasto ecco qua cerchiamo di nasconderlo il più possibile sotto l'altro fiore togliamo le ragnatele che è vero che siamo ad Halloween ma su questa proprio non ci stanno et voilà ecco qua che è muta via ed ecco qui finita la nostra ghirlanda è talmente grande che non ci sta neanche davanti al telefono voglio solo farvi vedere i particolari se riesco con queste luci i particolari dei fiori che secondo me sono veramente molto molto belli ecco qua ragazze ecco qua avete visto con pochi semplici passaggi abbiamo realizzato una bellissima ghirlanda fuori porta guardate molto elegante questa se volete potete cambiare magari solo il nastro e rendolo magari un po' meno natalissimo ma può essere anche un fuoriporta da tenere tutto l'anno così in total white come si dice adesso perché se non si parla in straniero non stiamo bene in completamente bianco con questi bellissimi colori in bordeaux e rosa antico secondo me è veramente molto chiccosa bene ragazze per questa sera è tutto io spero insomma che le mie spiegazioni siano state chiare esaustive se avete delle curiosità delle domande non esitate a contattarmi vi lascio il mio numero di telefono 347 7176 144 potete mandarmi un messaggino con tutte le vostre richieste e sarò felicissima di rispondervi nel più breve tempo possibile se volete far parte di questo bellissimo mondo vi invito ad iscrivermi alla mia community di whatsapp salvate rubrica il numero di telefono 347 7176 144 e chiedete di essere iscritte alle liste broadcast in laboratorio creativo di chiara poi vi domanderò tutte le informazioni del caso per questa sera e tutti vi ripeto solo che i prodotti che ho utilizzato questa sera sono interamente di creativa by marta collezione inverno 2021 e sono disponibili nel catalogo whatsapp che trovate salvando in rubrica il numero di telefono oppure sulla pagina facebook il laboratorio creativo di chiara per questa sera ragazze è tutto io vi auguro la buonanotte alla prossima e ci vediamo presto per chi vuole partecipare e iscriversi alla community di facebook abbiamo anche il gruppo facebook libera la fantasia gruppo di amiche creative di chiara ci vediamo venerdì per le stanze creative video chat dove si chiacchiera e si lavora in tutta tranquillità ciao ragazze buonanotte bene